uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodarone e ragazzi posizione del fort bite numero 12 quello di oggi come sempre in tempo reale ci chiede di utilizzare lo spray naranana in una galleria infusione ragazzi la galleria è proprio quella che si trova sotto al vecchio tempio tomato ragazzi ed ecco qua come vedete il fort bite se riusciamo a prenderlo prima che questo mi amma dai non mi amma ma non mi ammazzare ogni volta ma non mi ammazzare ogni volta comunque dovete utilizzare qua lo spray numero dello spray bananana come cazzo si chiama e lo potete prendere come appena fatto lui io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo fra poco in live ciao